Non ci sarebbero dubbi per il perito incaricato dalla Procura di Agrigento. Per il dottor Piero Munzone, la giovane agrigentina Chiara Lamendola è morta per colpa della buca stradale. Come ricorderete, l'incidente si verificò il 30 dicembre 2013 in Viale Cavaleri Magazzeni. Secondo la procura, la giovane si trova a bordo di uno scarabeo quando, a causa di una buca presente sul manto stradale, è andata a sbattere contro l'auto guidata da un anziano ottantenne che è stato rinviato a giudizio nel dicembre scorso con l'accusa di omicidio colposo. All'anziano si contesterebbe di avere frenato il ritardo e di essersi allontanato dal margine destro della carreggiata. Rinviati a giudizio sempre per omicidio colposo anche un dirigente e un funzionario del comune di Agrigento, i due sono ritenuti responsabili di non aver eliminato il pericolo sulla sede stradale e di non averlo adeguatamente segnalato. Ieri mattina, durante il processo in corso davanti al giudice Giuseppe Miceli e a carico del funzionario e dirigente comunale, c'è stata la deposizione del consulente Munzone. La causa scatenante del sinistro addetto è da ricercarsi nella presenza della buca sulla pavimentazione stradale che era piena d'acqua piovana e non ben visibile per essere evitata. Secondo lo stesso Munzone, la ragazza non indossava il casco, che era tenuto e infilato al braccio destro, ma la ragazza ha perso il controllo del mezzo per la buca, non perché non indossasse il casco.